Buonasera a tutti e benvenuti. Siamo arrivati al diciattesimo webinar della IFS. Io sono Goda Gedrmaite e rappresento la European Fertility Society in Italia. L'associazione EDUCA sostiene e aiuta i pazienti con problemi di infertilità a rendere il loro viaggio più amichevole e fondato sull'assistenza. Sostiene le cliniche per la fecondazione assistita attraverso l'istruzione e la formazione a supporto dei pazienti tramite orientamenti per il servizio e certificazione dei processi. Opera a livello globale e assiste cliniche di fertilità, organizzazioni di pazienti e società di PMA nel concentrarsi sulle centralità del paziente. Tale approccio garantisce che le esigenze, i valori e i desiderati dei pazienti siano adeguatamente considerati. Al fine di aiutare i centri di PMA e aderire alle raccomandazioni su un'adequata assistenza ai pazienti, IFS fornisce supporto attraverso servizi di consulenza e formazione. Quindi, adesso andiamo a vedere l'argomento del webinar di oggi. Il titolo dell'argomento specifico di oggi è FIVET con ovociti donati per donne di età superiori ai 40 anni. Il nostro ospite rappresenta Barcellona IVF. Barcellona IVF è una clinica di fertilità nata nel 2010 e situata nel cuore di Barcellona. La clinica offre ai suoi pazienti protocolli personalizzati, studiando nel dettaglio caso per caso e considerando ogni suo paziente come unico. Il team di Barcellona IVF è un team internazionale e multidisciplinare. Ne fanno parte otto ginecologi, di cui due che parlano italiano, nove biologi e più di 20 assistenti al paziente. Il suo laboratorio gode di apparecchiature di ultima generazione ed i trattamenti offerti rispettano le tecniche di più alta qualità presenti sul mercato. Il nostro ospite di oggi è il dottor Raul Olivares. Buonasera a tutti. Il dottor Raul è uno dei fondatori, ma anche direttore medico e amministratore di Barcellona IVF e si occupa di riproduzione assistita da lontano 1994, godendo quindi di più di 25 anni di esperienza nel settore. Il dottor Olivares è un medico per vocazione, avendo avuto sin da piccolo il sogno di far nascere i bambini. Ha realizzato questo suo sogno nei primi anni della sua carriera per poi dedicarsi alla fase anteriore, del concepimento e a tutti gli aspetti ad esso collegati, dedicandosi così pieno regime alla fertilità e alla riproduzione assistita. Il dottor Olivares, oltre a tutto, ha creato nel 2003 il primo dipartimento internazionale di fertilità. Grazie per essere con noi di nuovo. Buonasera. Terzo webinar con lei. Vi lascio parola tra un dieci secondi di cosolo per il nostro pubblico. Che lungo dopo il webinar potrete digitali le vostre domande, nella chat in basso destra per il nostro ospite. Le pubbliceremo dopo il webinar per la sessione di domande risposte. E vi ricordo che le domande sono non me. Adesso lascio la parola per il dottor Olivares. Buona presentazione e a tutti. Grazie, grazie Goda. Ok, allora, parleremo un po' di questo tratamento. Ok, infatti quello che dirò serve anche per i pazienti più giovani di 40 anni, perché l'unica differenza che possiamo trovarci tra pazienti più giovani o che hanno più di 40 anni, a livello di ovodonezzono, sono soltanto differenze rispetto all'utero, che può avere patologia che è più comune con un'età più avanzata. Quindi patologie come fibromi, patologie come polipi, sono abitualmente o capitano più spesso nelle donne di più di 40 anni. E se esiste qualche differenza nell'ovodonazione rispetto all'età, sono queste percentuali di attecchimento a causa di patologia organica dell'utero. Perché? Perché la qualità degli embrioni viene sempre garantita perché sono creati da ovocinti di una donatrice giovane. Quindi dal punto di vista embrionario, un embrione cercherà di attecchire lo stesso in una donna che ha 32 anni e ha una menopausa in pregoce che una donna che ha 45 anni. Dunque vi spiegherò un po' come funziona l'ovodonazione in un modo molto veloce, perché quello che voglio è rispondere la massima quantità di domande. Per noi, chiaramente, la quantità di cicli di ovodonazione è aumentata tantissimo. Qui possiamo vedere la quantità di transfer, questa linea che si vede dove c'è questo circolo rosso alla fine, sono la quantità di trasferimenti di embrioni creati da ovosciti donati. Vediamo che nel 2001 praticamente non arrivavamo neanche a 500 transfer e nel 2013 eravamo vicini a 12.000 transfer. Quello, come vedete, in questo senso l'età della donna, l'età in quale la donna ha il suo figlio, questo ritardo ha chiaramente aiutato a aumentare la quantità di trattamenti. Infatti, se vediamo la quantità di trattamenti fatti nell'Europa 2012, vediamo che in tutta l'Europa si hanno fatto 33.000, praticamente 34.000 cicli, di qui la metà, 16.710, sono stati fatti qui in Spagna. Quindi veramente Spagna e particolarmente Barcellona è la capitale europea dell'ovodonazione. E perché facciamo tanti ovodonazioni? Spagna è un paese dove esiste una cultura della donazione, probabilmente l'unica lista di cui siamo felici di essere nel primo posto è la quantità di trappianti che si fanno. Negli ultimi 20 anni Spagna è sempre stato il primo paese dal mondo, allora questo aiuta questa cultura di donazione. E permette di avere questa consapevolezza rispetto all'ovodonazione. Io so che qui in Spagna il discorso non è dire se una donna si è sottoposta o no a un'ovodonazione, sennò come informare i bambini, come dirle, no? Perché la gente parla dell'ovodonazione con una naturalità e questo permette che altre donne vogliano aiutare, vogliano aiutare e donare gli suoi usciti. E ovviamente la legge, che è una delle prime legge di PMA che esiste in Europa, la prima legge del 1985, veramente è stata molto utile perché ci ha permesso regolare dall'inizio, donatrici, donatori, caratteristiche, e lavorare e acquistare questa lunga esperienza e l'ovodonazione. Per quanto riguarda le indicazioni dell'ovodonazione, sono chiare le donne che hanno una menopausa, le donne che si hanno sottoposto a diverse fibre senza successo e che hanno un'età superiore ai 40 anni, diciamo questa sarebbe in cui sarebbe indicata l'ovodonazione, ovviamente nei casi in cui esiste una riserva bassa, quando ci sono pochi omuli, o quando la donatrice può avere una buona riserva ma la quantità, la qualità di quei usciti non è corretta. In tutti questi casi sempre la risposta sarà l'ovodonazione. Quali sono i punti chiave nell'ovodonazione? Ovviamente la scelta della donatrice, questo è importante per le donne, per le coppie, come fare il matching tra la donatrice e la ricevente e dopo scegliere o selezionare il migliore embrione per avere una bella percentuale di successo senza assumere un rischio troppo alto di gravidanza multidembre. Per quanto riguarda le donatrici, si deve fare una storia clinica personale della famiglia, una valodazione psicologica, l'esame ginecologico, tutto un studio di gruppo sanguigno, assedizione infettiva, anche esame genetici per verificare che non sono portatrice di anomalie cromosomiche e anche il carrier test che è quell'esame che ci permetterà dopo fare un matching genetico tra la donatrice e la ricevente, di qualcosa ne parlerò dopo. Però queste sono tutte le cose che vengono garantite perché come noi dobbiamo scegliere le donatrici prima di fare tutto quello che dobbiamo fare prima di accertarle nel programma di ovodonazione. Quando abbiamo questa donatrice dobbiamo fare un matching tra la ricevente e la donatrice e questo, diciamo, come un primo livello viene fatto a livello fisico, gruppo sanguigno, quindi prendiamo in considerazione aspetti come quello di pelle, capelli, occhi, anche gruppo sanguigno, altezza, tutto quello ci permette di scegliere una donatrice che abbia la massima somiglianza con la ricevente. Ovviamente qui parliamo di genetica, quindi non sarà mai possibile garanzire come sarà il bambino. Noi proviamo a aumentare, massimizzare le possibilità di avere un bambino che ha veramente una somiglianza con i genitori, però come il matching viene fatto con la donatrice, con tutta la famiglia, possiamo trovare una donatrice con gli occhi azzurri, pene bianca, bionda, che ha un fratello come io, quindi sarà impossibile garanzire quali saranno i geni che possono espressarsi nel bambino. Però quello che è veramente interessante è specificamente fare questo matching genetico. Noi a tutte le donatrici facciamo un studio per identificare malattie genetiche, o non identificare malattie, ma confermare se le donatrici sono portatrici di immutazioni che possono causare malattie nei bambini, più conosciute, fibra ossicistica, talassemia, l'ex fragile, l'atrofia muscolare spinale, ci sono tantissime, la lista include più di 300 malattie. Quindi questo offre la possibilità, la donna o la coppia, è che se l'uomo o il donatore di segno, si fanno lo stesso esame, possiamo incrociare la loro informazione genetica per confermare che l'uomo e la donatrice non portano le stesse mutazioni. Quindi il bambino, possiamo parlare di questa compatibilità genetica, perché il bambino potrà essere un portatore sano, ma il rischio di avere qualcuna di queste malattie sarà bassissimo, non sarà mai zero purtroppo, perché esistono mutazioni spontanee che non possiamo controllare, però parliamo di un rischio residuale di un 0.003%, quindi praticamente zero. Un altro aspetto molto importante è che una delle principali differenze tra l'Italia e la Spagna è gli ovociti, se sono freschi, sono congelati. In questo studio Yassi confermava che anche se la percentuale di successo del transfert in fresco potrebbe essere abbastanza simile, quando gli ovociti vengono congelati la quantità degli embrioni che otteniamo sarà inferiore e quindi questo ridurrà quello che noi chiamiamo la percentuale accumulata dal ciclo, vuole dire l'opportunità di rimanere incinta con qualcuno degli embrioni che abbiamo ottenuto. Se ne abbiamo uno o due, ne avremo una o due opportunità. Se lavoriamo in fresco, facilmente possiamo finire con quattro, cinque, questo aumenterà la possibilità di avere questo bambino senza avere di ricominciare tutto il percorso. E questo è quello che noi osserviamo anche nella nostra clinica, questi sono dati del 2017, però vediamo che abbiamo una bella sopravvivenza, un 82% di sopravvivenza è molto corretto per gli ovociti vitrificati, le fecondazioni erano molto simili, però dopo la quantità di blastocisti era un 72% quando gli ovociti erano freschi, 62% congelati, ma però anche la gravidanza era più alta con i freschi, vuole dire che non è soltanto una questione di quantità ma anche di qualità. E infatti per ottenere 3 blastocisti di qualità avevamo bisogno di nuove ovociti maturi quando questi ovociti erano vitrificati e 6 soltanto quando erano freschi, quindi è un aumento del 50% della quantità di ovociti per ottenere alla fine un risultato, un essito corretto. Però questo non è soltanto una questione diciamo nostra, questi sono gli esiti ufficiali delle cliniche americane nel 2013 dove si vedono che anche se la quantità di cicli con ovociti congelati aumenta, la percentuale del successo è sempre più alta quando si lavora con ovociti freschi, quindi non è una situazione causata per un problema nel nostro laboratorio e la sopravvivenza, gli ovociti sono strutture molto difficili di congelare anche se hanno un'ottima qualità come sarebbe il caso dell'ovodonazione e questo riduce la percentuale del successo. Quindi noi come lavoriamo? Lavoriamo con la sincronizzazione tra donatrice e ricevente che abitualmente viene fatta con la pillola anticoncezionale che donatrice e ricevente assumono insieme, dopo entrambi sospendono la pillola più o meno nello stesso giorno in modo che hanno il ciclo contemporaneamente quando la donatrice ha il suo reciclo inizia una stimolazione per ottenere gli ovociti e nel frattempo la ricevente fa una terapia ormonale sostitutiva con il proginova per far crescere questo endometrio, valutare lo spessore e nel momento in cui preleviamo gli ovociti abitualmente con un campione del Sene che è congelato, questi ovociti vengono inseminati e la ricevente è pronta per 5 giorni dopo di aver fatto il PICAR fare il transfer e congelare tutti gli altri ambeloni. Veramente questo comporta una carica di lavoro per la nostra clinica perché se fosse con ovociti congelati sarebbe veramente molto più facile però noi pensiamo che ancora dobbiamo lavorare così per aumentare al massimo la percentuale di successo delle nostre pazienti. Un altro aspetto importante è quando trasferire come avete visto noi raccomandiamo trasferire il quinto giorno e chiarissimamente ci sono tantissimi vantaggi. Prima questo studio dove vediamo che la percentuale di successo con il transfer del giorno 5 del day 5 è molto più alta e questa percentuale si ottiene anche se nel gruppo di giorno 5 sono stati trasferiti meno embrioni che nel gruppo del giorno 3 quindi abbiamo una percentuale più alta con un rischio di gravidanza multiple inferiore. La quantità di embrioni che di cui abbiamo bisogno è inferiore perché la qualità è superiore. e in questo altro studio quello che si è visto lo stesso è che la percentuale di successo con il transfer quando facciamo un transfer di un embrione nel quinto giorno un embrione nel terzo giorno è chiaramente migliore con l'unico embrione l'unico modo in cui possiamo bilanciare un po' la percentuale di successo è se trasferiamo più embrioni nel terzo giorno quindi aumenteremo il rischio di gravidanza multiple però un altro aspetto valutato in questo studio è che la quantità di cicli di cui i pazienti avevano bisogno per arrivare al figlio al bimbo in braggio era inferiore quando trasferivano un quinto giorno quindi riduce la quantità di cicli in età e quindi i costi aggiuntivi a questi trattamenti l'altro aspetto è come fare a livello di laboratorio per scegliere questo embrione è utilizzare gli embryoscop che sono purtroppo questo è un video che non va in questa struttura per bene sono questi incubatori che hanno una camera che scatta foto ogni 15 minuto ci permette di creare un video un video che ci permette valutare le divisioni cellulari e questo fa che adesso noi quando scegliamo un embrione scegliamo non soltanto in base alla sua morfologia nel quinto giorno ma anche possiamo valutare come ha fatto i compiti durante tutti questi giorni e a volte possiamo trasferirne uno che non è così bello però che è veramente fatto tutto di divisione cellulare che ha fatto tutto corretto durante questi cinque giorni e la percentuale del successo con la tecnologia timelapse che come si chiamano questi embryo questi incubatori dopo c'è l'embryoscope e il GERI però la tecnologia TELA sono chiaramente migliore e la comparazione tra l'embryoscope e il GERI sono molto molto simili però sì che abbiamo una percentuale di successo chiaramente superiore perché probabilmente oltre questo informazione che abbiamo sul rivolupo embrionario è un controllo ambientale più rigido probabilmente questo incubatore è lo più simile all'utero che abbiamo in questo momento al laboratorio quindi la manipolazione che facciamo degli embryoni è minima e per me probabilmente questo timelapse che vedete qua è anche migliore che trasferire gli embryoni in terza giornata nell'utero perché gli embryoni nel ciclo naturale non arrivano all'utero fino al quarto o quinto giorno quindi non possiamo neanche considerare che trasferire in terza giornata nell'endometrio sia un'aiuta fisiologica perché gli embryoni sono ancora nelle tuba e le caratteristiche delle tuba dell'endometrio sono molto diverse quindi questo argomento di trasferire l'embrione in un ambiente più fisiologico nel terzo giorno non è secondo noi corretto quindi come sceglieremo questi embryoni combinazioni di blastocisti e timelapse questo permette una percentuale di impianto migliore una possibilità di scegliere i migliori embryoni per portare o fare un elective single embryo transfer il trasferimento di un embryone elettivo e con una buona percentuale di successo e questo è buono perché riduce il numero di gravidanza multiple non modifica la percentuale di gravidanza accumulata è vero che potremmo avere bisogno di più tentative perché se trasferiamo 4 milioni uno a uno questo può essere più costosso che trasferirne due però noi come quello che vogliamo sono bambini sani sappiamo che il modo più semplice di avere un bambino sano è una gravidanza singola dunque il transfer di un embryone solo deve essere consigliato in tutti i casi di buona proamnesi FIVE con donna più giovani di 37 anni 12 civili dopo la donazione specificamente donna che hanno più di 40 anni in cui la gravidanza gemelare comporterà rischi alti di avere un problema durante questa gravidanza e questo è stato molto velocemente ovviamente parlare della donazione ci permetterebbe parlare tutto tutto il giorno come noi pensiamo che si deve fare specificamente nelle donne di più di 40 anni dove dobbiamo sempre che sia possibile ottenere una gravidanza singola grazie grazie per la presentazione passiamo alla parte Q&A domande risposte prima domanda buonasera nell'ultima fecondazione in litro con i ovuli a 40 anni abbiamo avuto la conferma di trisomia 21 sindrome down possiamo fare il PGT testing con la donazione delle ovuli per assicurarci che non succede una seconda volta che lo consiglia grazie se e no vuole dire se puoi fare una diagnosi genetica preimpianto e una ovodonazione di ovociti però c'è un'indicazione medica no qui per quanto riguarda la trisomia 21 il principale rischio è l'età della donna e in una ovodonazione l'età della donatrice sarà sempre inferiore a 35 anni una donna di 27 anni può avere una sindrome di down si può capitare il rischio basso quindi come dico non esiste un'indicazione noi abitualmente non la raccomandiamo perché pensiamo che un 70 o 75 per cento degli agroni saranno geneticamente normali però se la coppia ha paura per chi ha un'istoria medica si può fare e in questo caso l'unica cosa a prendere in considerazione è che quando facciamo l'addianosi genetica preimpianto non si può fare un transfer in fresco si devono congelare gli embrioni una prima fase dopo la donatrice è stimolata prendiamo gli ovociti creiamo gli embrioni che vengono biossiati in quinto giorno e congelati e quando abbiamo l'essito dopo si fa una preparazione nella nella ricevente congelare l'embrione non ha niente a che vedere con congelare ovociti hanno una bella sopravvivenza superiore al 98 per cento con una percentuale di successo che è praticamente uguale ai blastocisti freschi quindi se dobbiamo congelarli per noi come dico non è lo stesso congelare ovociti allora come dico è una scelta personale però abitualmente non viene raccomandata perché il rischio genetico di questi embrioni è base la prossima domanda buonasera dottore ho avuto una gravidanza naturale a 39 anni e parto vivo 3 ui all'età di 43 anni la seconda ui con conseguente gravidanza ma è seguito un aborto spontaneo a 10 settimane vorrebbe la pena provare la fecondazione in vitro con i propri oculi prima di provare con il luogo del donatore quello dipenderà della riserva ovalica perché ovviamente come lei è già rimasta incinta il problema non è a volte non è tanto rimanere incinta come avere un bambino questa è la principale differenza dopo i 40 anni perché la qualità genetica degli uvosciti quindi la five permetterebbe di fare uno studio genetico di cui parlavo prima la diagnosi genetica preimpianto per confermare se questi embrioni sono geneticamente normali qual è la possibilità di trovare un embrione geneticamente normale ai 43 anni un 10% quindi la limitazione per raccomandare un trattamento e ovviamente la quantità di uvosciti che possiamo che potremmo prelevare una combinazione di età di più di 40 con una bassa riserva ovarica abitualmente ci farà raccomandare direttamente l'eterologa ma se una donna di 43 anni ha una bella riserva ovarica che ci permette di ottenere 10 12 uvosciti bene allora si specialmente in questi casi di esterilità secondaria vuole dire che la coppia ha già un figlio provare una volta sarebbe interessante e ovviamente la percentuale non sarà mai la stessa che un'avodonazione ma come a volta anche il percorso per arrivare all'avodonazione è molto diverso e ci sono pazienti che preferiscono fare tantissimi tratamenti altri che già dall'inizio scegliano quello che è più facile più efficiente però con una riserva che ci permette di ottenere una quantità di uvosciti corretta e sempre con la diagnosi genetica per l'impianto per evitare quello che è accaduto con la UI mi sembra mi sembrare bene buonasera cosa suggerisce con una storia di endometriosi grave e fallimenti moltipli con ovuli di donatori qui dipende un po' se questi questi embrioni sono stati creati con uvosciti freschi congelati ovviamente anche della qualità degli embrioni perché non possiamo dimenticarci che a volte anche l'uomo anche se l'uomo abbia una una un espermiogramma assolutamente normale a volte ci sono fattori nascosti a livello dell'espermatozoi che possono causare un problema nelle ovodonazioni quindi è vero che l'endometriosi specialmente quando è grave può ridurre leggeramente la percentuale di attecchimento perché può esistire quello che chiamiamo una denomiosi che è una infiltrazione del miometrio per l'endometriosi però io in questo caso prima raccomanderei di fare qualche studio a livello di seme per valutare se esiste una frammentazione aumentata un rischio di aneuplioidia più alto a livello degli espermatozoi se chiudiamo questa porta del fattore maschile quindi probabilmente si può provare a fare una suppresione ovarica con un trattamento con analogo della genere RH per ridurre la adenomiosi e questo ci permette a volte di aumentare la percentuale di successo perché questa adenomiosi specialmente quando è vicina all'endometrio può difficoltare a volte di un modo importante l'attecchimento embrionario però questo sarebbe nel caso di confermare che gli embrioni trasferiti o che possiamo creare sono di ottima qualità e ovviamente se questi trattamenti sono stati fatti a volte con ovocidi congelati come abbiamo visto non sappiamo quanti di quanti fallimenti ne parliamo e provare con ovocidi freschi può permettere migliorare la qualità di un'area grazie per la risposta passiamo alla prossima domanda buonasera ho 43 anni e sto valutando la eterologa in seguito a tanti fallimenti vorrei chiedere se liquido il seminale di mio marito che ha 58 anni e che all'ultimo esame aveva una concentrazione nemaspermica di 10x10 alla sesta ml ha buone opportunità l'età non è un fattore così importante nell'uomo infatti qui in Spagna le donne possono essere donatrici fino a che hanno 35 anni l'uomo fino ai 50 anni ma è vero che dopo dei 45 anni può aumentare quello che chiamiamo la fragmentazione del DNA e questo può ridurre l'efficienza di una ovodonazione è vero che la frammentazione che vuole dire che l'edna che c'è nella testa degli espermatozoi è frammentato è un problema che devono risolvere gli ovociti e che la qualità ovocitaria è molto importante cioè che ovociti di una donatrice hanno una capacità di risolvere il problema più alta che ovociti di una donna di 43 anni quindi l'impatto della frammentazione a livello dell'ovodonazione sarà probabilmente inferiore ma se questa frammentazione è alta superiore a un 77% questo può incidere sulla qualità genetica degli embroni e ridurre anche la percentuale di attecchimento aumentare il rischio di aborto esiste una tecnica a livello di laboratorio per ridurre l'impatto della frammentazione quindi io in suo caso probabilmente prima di valutare l'eterologa farei qualche studio a livello di seme frammentazione di DNA per l'età la concentrazione è un po' nel limite 10 milioni millilitri sappiamo che il livello normale sono 15 però se abitualmente non è una oligodospermia importante non sarebbe necessario neanche fare una valutazione generica di seme ma la frammentazione un po' per capire come può andare per valutare se la quantità di embrioni che potremmo ottenere sarà corretta se la quantità di gli blastocisti di qualità sarà quella che noi speriamo sarebbe interessante per il fattore d'età se la frammentazione è normale probabilmente questo spermiogramma non cambierà tanto la percentuale di successo grazie l'utente ha anche pubblicato che la frammentazione del DNA è 35% il problema il problema della frammentazione è che ci sono come 5 esami diversi non è lo stesso un tunnel un tunnel per esempio 35 è anormale un SCSA o SCD che un 35 sarebbe più o meno nel limite consideriamo 30 che per esempio un comet un comet un 35 sarebbe assolutamente normale quindi se è stato fatto in Italia probabilmente se ha un SCD o un test di condensazione in cui 35 è leggeramente anormale probabilmente l'impatto sulla valorazione non sarebbe così alto perché non è un indice molto molto aumentato però purtroppo ho bisogno non soltanto della frammentazione della percentuale ma anche dell'esame grazie prossima domanda anche l'età del partner maschile influisce sul successo della gravidanza l'evidenza scientifica ci dice che a livello di anomalie genetiche probabilmente no se il partner ha meno di 65 anni che sarebbe il punto in cui l'uomo può contribuire aumentare il rischio del sindrome di Down però come ho appena spiegato chiaramente la frammentazione del DNA si che può aumentare dopo i 45 anni specialmente in quelli uomini che hanno fattori di rischio come fumatore alcol varicocele sono fattori che possono anche aumentare il rischio di frammentazione quindi se l'uomo ha un'età superiore a 45 però sempre che l'uomo ha un'età superiore a 50 anni non raccomandiamo di fare un studio della frammentazione per fare la vita degli ovociti più semplice perché si devono risolvere meno problemi probabilmente la quantità e qualità degli embrioni ottenuti sarà migliore grazie prossima domanda questa domanda è legata alla prima primissima domanda mi spaventa un po' un po' l'idea di non sapere se la donante durante la stimolazione con gli ormoni fa una dieta sana non fuma eccetera questo non si può controllare vero? ovviamente noi controlliamo perché per noi è molto importante avere la tranquillità che il trattamento non causerà un problema nella donatrice non diventerà un rischio quindi noi confermiamo che la donante e la donatrice è sana che fa tutto tutto correttamente ovviamente fumare può ridurre la qualità degli ovociti non necessariamente c'è un studio fatto qui in Spagna dove si valutava che se la donatrice fumava meno di 10 cigliaretta al giorno e la qualità ovocitaria la percentuale di successo non cambiava per noi una donatrice che fuma più di 10 direi che non ci interessa perché perché non possiamo dimenticarci che durante la procedura dovrà sottoporsi un'anestesia quindi per noi come ho già detto ridurre i rischi a livello della donatrice è anche importante tutto l'altro l'impatto che una dieta può avere sulla qualità ovocitaria bene parliamo di donatrice giovani quindi probabilmente anche nell'epigenetica non ha avuto un tempo troppo importante per ridurre questa qualità ok noi abbiamo fatto diverso abbiamo portato avanti diversi studi per valutare i fattori che potevano cambiare la percentuale del successo e onestamente non abbiamo trovato nessuno sempre nei limiti diciamo logici dire che una donatrice come dico fuma un pacchetto e mezzo al giorno probabilmente puoi avere il problema a livello di qualità ovocitaria non li accettiamo non vengono accettate ma una donatrice che beve anche un bicchiere di un fine settimana non possiamo dimenticarci che hanno 23 24 25 anni quindi a volte le cose che fanno non sono le stesse che una persona di 40 però sempre noi valutiamo perché noi sì che vediamo le donatrice probabilmente siamo l'unico centro dove noi i dottori seguiamo le donatrice facciamo il pick up e quindi proviamo sempre a scegliere le donatrice non sane dal punto di vista genetico ma responsabile che faranno tutto quello che noi diremo quando si deve fare per ridurre i rischi vuol dire che sono una personalità senza adizioni tutto quello per la nostra tranquillità per la tranquillità della donatrice e anche per la tranquillità della ricevente grazie la prossima domanda come potreste spiegare i casi in cui la donna con più di 50 anni rimangono incinte sono solo fortunate una ogni 10.000 sì tutti gli altri ho donazioni e il problema è che la maggioranza delle donne di questa età che rimangono incinta o sono donne che rimangono incinte in modo spontaneo probabilmente donne che hanno già 3, 4, 5 fili perché la gravidanza ha un effetto di protezione verso la fertilità e o sono donne che sono rimaste incinta con un'eterologa con un'omologa io non ho sentito mai nessuna paziente di 50 anni perché una donna che ha bisogno di una terapia per un problema di fertilità a 50 anni nel 99.99 99% delle volte è per una bassa qualità vocilaria quindi la probabilità di riuscire di farcela con quello è bassissima sarebbe un miracolo quindi come dico o parliamo di gravidanza naturale che io conosco so di casi in cui le donne di 49 50 anni sono rimaste incinte spontaneamente o ovevo nazionale ma con FIVET posso dire che in Spagna non esiste né un solo caso nelle adesso 21 anni in cui abbiamo un registro nazionale grazie prossima domanda salve salve dottore ho 48 anni e avrò bisogno di tutti e due donatori vivo in Italia e vorrei sapere quali sono i primi passi posso fare gli esami preliminari in Italia e quali sono gli esami poi se uso ovevo mac e la donatrice è possibile fare la donazione in fresco quante volte dovrei venire a Barcellona grazie ok in questo caso infatti non sarebbe necessario neanche venire a Barcellona perché parliamo di una doppia donazione quindi questo match genetico si dovrebbe fare tra la donatrice e il donatore quindi tutto quello abitualmente come elaboriamo noi voi ci contattate noi chiediamo tutte le informazioni organizziamo un primo appuntamento tramite Skype che è gratuito per valutare il caso decidere un po' come elaborare e spiegare gli aspetti basici dei trattamenti nel caso in cui dobbiamo fare una doppia donazione quando la paziente è pronta per iniziare il trattamento inizierà la sincronizzazione noi sceglieremo la donatrice che verrà sincronizzata e faremo alpicar e crearemo questi embrioni con la banca del seme e la ricevente soltanto dovrà venire a Barcellona per il transfer degli embrioni arriverà il giorno prima faremo il transfer e il giorno dopo potrà rientrare in Italia senza problema quindi in tutto il trattamento soltanto dovrà venire due notti tutto l'altro viene fatto tramite mail Skype e chiamate telefoniche però non deve venire nel caso di una dona che ha un partner ovviamente si che raccomandiamo venire a Barcellona una volta prima di cominciare il trattamento per congelare il campione di seme per fare nel caso in cui la coppia vuole fare il match generico questo è il prelievo di sangue per dopo incrociare la informazione genetica dell'uomo con quella della donatrice però dopodiché la prossima volta che ci vedremo sarà nel transfer uguale vuole dire che quando abbiamo un campione congelato qua lavoriamo con il campione congelato e la coppia soltanto deve venire a Barcellona quindi coppia eterososuale o con un uomo due volte una prima per congelare i seme un'altra il transfer nel suo caso soltanto per il transfer degli embrioni tutto l'altro verrà fatto tramite mail o contatto attraverso le skype tramite le skype o telefono grazie l'utente anche scuso tutti tutti gli esami che si devono fare prima di cominciare il trattamento lo fate in Italia il monitoraggio lo fate in Italia con il vostro dottore per valutare come cresce l'endometrio per quello tutto l'altro sarebbe soltanto venire per il transfer scusa quale esame devo fare una ecografia per verificare che l'utero posto che non esiste patologia come fibromi polipi che tutto si vede corretto cista a livello ovarico che dopo possano causare il problema e un prelievo dal sangue con nemocromo coagulazione le seriologie effettive di ipaditi B C achilu sifilide un studio della tiroide un studio della vitamina D e basta se tutto questo è a posto lei può cominciare un trattamento se vediamo che esiste qualche problema sì che è vero che nelle donne che hanno più di 45 anni a volte chiediamo un referto del ginecologo che la segue autorizzando questo trattamento noi sempre che è possibile proviamo a aiutare le paziente senza aumentare troppo i rischi ostetici quindi se esiste qualche patologia possiamo a volte chiedere l'autorizzazione dal ginecologo per fare il trattamento grazie prossima domanda salve esiste una correlazione tra età del ricevente e successo della gravidanza con ovodazione leggerissima per quello che ho detto all'inizio le donne che hanno 48 anni possono avere più patologie a livello dell'utero e questa patologia può ridurre la percentuale di attecchimento anche se la qualità degli embrioni sia la stessa sia la stessa quindi oltre questi aspetto diciamo anatomico organico dell'utero la percentuale di attecchimento degli embrioni come la qualità sarà esattamente uguale a 43 che a 49 anni non comporterà un cambio o una differenza importante soltanto a livello dell'utero a livello della salute a livello di come questo corpo potrà dopo rispondere alla gravidanza però dal punto di vista glionario non cambierà grazie consiglio a tutti la clinica IVF attualmente sono incinta grazie a loro in seguito a un percorso di ovodonazione ho 43 anni sono nella settimana settima settimana troppo presto per dire che è andato tutto bene ma al momento mi godo questo positivo dopo 4 anni di ricerca un caro saluta a tutta la staff non è una domanda bene per un carino sì un commento molto carino veramente a volte e come dicevo alle strada per arrivare alla ovodonazione è molto difficile il tempo necessario tutto quello che una coppia una donna deve investire non dico a livello economico ma anche emotivo però veramente quando la qualità embrionaria è buona dopo purtroppo a volte vedo tante paziente che è con 42 con 41 anni con embrioni che non sono ottimi chiedono studi di attecchimento impianto e biossi endometriali stereoscopia quando è chiarissimo che il principale problema che ha quella coppia quella paziente è la qualità degli ovociti l'età per chiedere esami di attecchimento di impianto dobbiamo prima confermare che la qualità embrionaria e non soltanto la qualità morfologica è buona e non è purtroppo questo capita no pazienti che siano sottoposti a due tre trattamenti che sempre no l'embrioni buoni terza giornata sembra però che non riescono è la prima volta che si fa una ovodonazione rimangono incinta o la prima o la seconda però chiaramente è un trattamento che dopo ognuno deve decidere quando cominciarlo adesso passiamo alla domanda la sua clinica ha accesso agli ovociti congelati qual è la sua opinione su di loro rispetto al rischio e alla facilità di tempistica per il ciclo combinato e il viaggio ne abbiamo ne abbiamo perché a volte abbiamo donatrici che nel giorno del pick up e la coppia che vuole ottenere un campione in fresco non ce la fa per arrivare e dobbiamo congelare questi ovociti come dico a noi se possiamo scegliere preferiamo lavorare con ovociti freschi nel caso in cui per una difficoltà logistica tempistica e dobbiamo congelare noi preferiamo lavorare con ovociti freschi e congelare gli embrioni che dopo verranno trasferiti nel momento più facile più semplice per la paziente che non congelare ovociti lo preferisco creare per esempio una delle cose che abbiamo imparato purtroppo dopo il covid è che quando congeliamo tutti gli embrioni la percentuale del successo di questo primo criotransfer è praticamente uguale a quando trasferiamo in fresco quindi ancora non abbiamo la tranquillità per cambiare tutti congelare tutti gli embrioni però so che in Italia ci sono cliniche che preferiscono mandarci il seme creare gli embrioni e dopo spostare i blastocisti e non lavorare con ovociti freschi quindi se è necessario per una questione di lavorativa che uno non ha la disponibilità anche se abitualmente esiste perché quando noi lavoriamo anche se noi lavoriamo in fresco la coppia sempre avrà un preavviso la paziente avrà un preavviso di una settimana perché noi contatteremo prima del PICA due o tre giorni prima e il transfer verrà fatto cinque giorni dopo quindi anche se lavoriamo in fresco questa settimana del preavviso esistirà che nella maggioranza dei casi è sufficiente come per organizzare l'espostamento l'albergo tutto però se il caso è veramente difficile io preferirei prelevare gli ovociti creare gli embrioni e dopo congelarli perché la percentuale di successo la sopravvivenza del scongelamento sarà chiarissimamente migliore grazie c'è la possibilità di avere una gravidanza il primo tentativo avendo utero ed endometrio buoni nonostante sia in menopausa precoce da due anni a 42 anni sì sì infatti come ho detto durante la relazione probabilmente la principale indicazione per la ovodorazione è la menopausia sia precoce che ai 48 anni che sarebbe più normale è vero che sì l'unica differenza quando una donna non ha avuto il ciclo per un paio di anni tre anni o più anni a volte può capitare che quando si fa la preparazione l'endometrio non risponde così velocemente come una donna che è il ciclo regolare e questo quando lavoriamo in sincronizzazione può essere un problema perché possiamo avere una donatrice che arriva al giorno del pick up e la ricevente non è ancora pronta perché l'endometrio non è cresciuto sufficientemente veloce in questi casi a volte quello che noi facciamo è quello che chiamiamo un dummy cycle vuole dire un ciclo di prova per valutare come risponde e come la donna non ha il ciclo non sarebbe necessario utilizzare la pillola contraccezionale per sincronizzarla però si possiamo utilizzare un ciclo di preparazione ormonale quindi la paziente inizia una preparazione vediamo come risponde questo endometrio se risponde velocemente se abbiamo bisogno di aumentare il dosaggio degli estrogeni se dobbiamo combinare pillole e cerotti finché arriviamo a un esplosore corretto nel momento in cui sappiamo come lavorare per ottenere una risposta veloce allora aggiungiamo il progesterone e utilizziamo questo ciclo di preparazione per sincronizzare la ricevente con la donatrice in modo che la ricevente finirà il suo trattamento ormonale sostitutivo nel momento in cui la donatrice sospenda la pillola anticoncezionale entrambi avranno il ciclo contemporaneamente e continueremo a lavorare ma già con un protocollo chiaro di come lavorare per ottenere una risposta corretta però come dico questo abitualmente è come noi lavoriamo nelle donne che hanno o che sono che non hanno il ciclo di più di due tre anni grazie la prossima domanda è vero che c'è una correlazione tra il viaggiare in aereo subito dopo l'impianto e la perdita del bimbo quindi è meglio far passare diversi giorni prima di viaggiare questo non l'abbiamo visto non l'abbiamo mai visto infatti io ho pazienti che arrivano nello stesso giorno la mattina perché hanno una buona combinazione facciamo il transfer e partono la stessa sera rimangono incinta io non ho visto mai una differenza importante prima perché quando la paziente rientra nel suo paese nel giorno del transfer o il giorno dopo l'embrione non è ancora attecchito quindi non cambia nulla l'embrione gli embrioni attecchiscono praticamente 48 ore dopo il transfer giorno 7 6 6 mezzo 7 quindi spostarsi durante questi giorni non cambia nulla come non cambia nella vita di una donna che rimane incinta in modo spontaneo non vedo quale sono le differenze tra una donna che rimane incinta durante la luna di melle o una donna perché la qualità vocitaria parliamo di luna di melle probabilmente parliamo di una donna giovane e di una donatrice quindi no noi io ho pazienti che il giorno dopo del transfer rientrano nel loro paese però parlo di gli Stati Uniti Singapore e rimangono incinta quindi io non credo che esista una correlazione tra l'aereo e la percentuale di successo almeno la percentuale di aborto quindi hanno i voli anche molto lunghi si iscrivono pazienti che come dico la maggioranza il 90% dei nostri pazienti rientrano il giorno dopo del transfer nei loro paesi e la percentuale di successo che abbiamo è corretta è buona come qualsiasi altra clinica qui di Barcellona sono 65 con un embrione quindi è correttissima però non abbiamo visto però anche le paziente che come dico rientrano negli Stati Uniti Singapore anche altri paesi dell'Asia o della Scandinavia che sono 4-5 ore di voli la percentuale non cambia grazie la prossima domanda esiste un modo per migliorare la qualità delle ovociti in donne di 40 anni ci sono degli studi in merito studi che hanno confermato che hanno prodotto dimostrare questo non ci sono non esiste la qualità ovocitaria e come sempre dico a volte noi che lavoriamo nella PMA siamo un po' vittime fashion victim vittime di certe moda che a volte il dottor Google mette adesso per esempio siamo con tutto quello del transfer con l'uso del plasma con le piastrine questo viene della medicina sportiva che fa una rigenerazione più veloce di tutti i problemi articolari e muscolari degli esportisti di Elide e si sta provando per vedere si può rigiovenire gli ovociti gli ovaie mettiamo questo plasma con queste piastrine e per vedere si può migliorare però questo sono studi assolutamente sperimentali che ancora nessuno ha confermato che possono aumentare o migliorare la qualità ovocitaria so che esistono cliniche specialmente nella Russia e Ucraina che dicono che questo funziona però come dico non esiste nessun studio in quel momento che conferma la sua efficienza per quanto riguarda altri trattamenti o sostanze coenzima Q10 mio inositolo chilo inositolo DHA testosterone antiossidanti siamo nella stessa situazione ci sono studi che dicono che possono aumentare la quantità degli ovociti però alla fine nessuno perché veramente non sono stati disegnati in questo senso conferma che esista una quantità superiore dei bambini e noi l'unica cosa che ci interessa sono i figli per me ottenere più usciti se dopo questo non comporta una percentuale di successo maggiore più possibilità di avere un bambino non mi interessa quindi dal punto di vista del bimbo in braccio ok nessuna sostanza ha mai provato a aumentare questa percentuale grazie avete ovociti donate solo dalla Spagna è possibile averli anche da altri paesi o continenti sì qui la Spagna è come ho detto il paese più importante nell'Europa però l'altra metà dei cicli viene fatta alla Repubblica Checa anche Inglaterra e in certi casi si può fare alla Francia a Belgia ci sono altri paesi dove si può fare penso che anche Bulgaria e ovviamente i paesi della Russia l'Ucraina alla Grecia si può fare anche l'obodonazione dopo la regolazione l'esperienza qui diciamo che abbiamo un fattore negativo per noi positivo per voi che è la quantità di clinica in Spagna il paese dell'Europa con più clinica di PMA soltanto Barcellona ce ne sono 20 quindi questa competizione competitività è negativa per noi però allora ci è spinta a sviluppare a imparare a lavorare meglio perché abbiamo tante altre cliniche qui e questo alla fine comporta un miglioramento della percentuale di successo per le pazienti quindi e sì ovviamente negli Stati Uniti si può fare una bonazione il costo sarà probabilmente dieci volte superiore a quello che è se noi qui una valorazione sono 8000 euro 7000 8000 euro negli Stati Uniti 70.000 80.000 dollari sicuro quindi non so se vale la pena perché la percentuale di successo non è significativamente migliore quindi Spagna il paese più importante ma non è l'unico grazie la prossima domanda che penso sarà anche la ultima le cliniche spagnole in Italia lavorano solo con ovociti congelati non so se ci sono le cliniche spagnole ci sono perché ci sono le cliniche altre cliniche no a volte quello che fanno è quello che ho detto prima vi congelano il seme che viene spostato a Barcellona o un'altra città dove vengono creati gli embrioni congelati i blastocisti che dopo sono spostati in Italia e quindi dopo il transfer in Italia viene fatto con blastocisti congelati non ovocili congelati per me ovviamente per me come il fresco non esiste nulla però se alla fine non è possibile spostarsi preferirei lavorare con blastocisti congelati che con ovocili congelati grazie quindi finiamo il nostro webinar grazie a tutti per aver partecipato a questo diciottesimo webinar della IFRS ma soprattutto grazie al nostro ospite dottor Raul Olivares per averci parlato di FIVET con ovociti donati per donne di età superiore ai 40 anni grazie per essere con noi per la terza volta non è l'ultima volta spero di no no io sto chiedendo questo vuole dire che lo faccio più o meno bene sì sempre molto bene e sempre abbiamo tante domande quindi le eventuali domande in avase le inoltreremo al dottor Olivares che provvederà a rispondervi in maniera diretta per chi di voi lo desiderasse inoltre sarà per noi un piacere mettervi in contatto direttamente con il nostro credito ospite tramite il sito myivfanswers.it infine ci farebbe piacere avervi di nuovo con noi in uno dei prossimi webinar vi ricordo che i webinar della european fertility society sono ogni martedì alle ore 18 per iscriversi gratuitamente è sufficiente accedere myivfanswers.it grazie 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 per essere con noi spero che tutta la settimana andrà molto bene perfetto grazie arrivederci arrivederci buonas tardes buonas tardes ciao